Il Prato riprende gli allenamenti in vista della ripresa del campionato domenica prossima 14.30 match casalingo con il Ravenna comincia il girone di ritorno ne parliamo insieme al capitano Claudio un Prato che deve ripartire più che altro deve riscattare la sconfitta con lo Scandicci la gara con il Ravenna sembra fatta apposta Sì una ripartenza voluta perché sono stati comunque dieci giorni in cui ci siamo portati dietro comunque le amarezze delle ultime partite perché oltre alla sconfitta casalinga c'è comunque una sconfitta italiana c'è un pareggio che comunque sa di sconfitta contro il Crema quindi è tanto che non vinciamo e l'occasione di domenica è un'occasione bella partita molto difficile interessante perché comunque giochiamo con una squadra importante fatta di giocatori importanti e questa potrebbe essere l'occasione per ripartire col piede giusto Ci da tornare a vincere anche per posizionarsi in una situazione di classifica più tranquilla Sì certo perché comunque tante squadre hanno cambiato qualche interprete la ripartenza del campionato è decisiva per capire quello che il Prato potrà fare da qui alla fine del campionato è ovvio che noi cercheremo di fare di tutto per rientrare nella zona playoff perché questo è l'obiettivo che ci siamo dati perché noi siamo il Prato e dobbiamo guardare più in alto possibile e siccome questa squadra ha dimostrato di fare filotti importanti di vittoria dobbiamo riprendere quel passo lì Il Ravenna è un avversario temibile partito con ambizioni di vertice che si ritrova invece ai margini della zona playoff una squadra che tra l'altro ha cambiato molto nel mercato autunnale Ravenna era una squadra tra le accreditate per la vittoria finale è difficile capirne i motivi perché a volte quando fai queste squadre così forti o partono subito bene o possono incappare in quello che è il campionato che stanno facendo però il giro di ritorno io personalmente lo considero come un altro campionato perché si interrompono tante dinamiche che possono essere utili per chi magari deve riscattarsi e magari negative per chi magari deve proseguire una marcia che aveva avviato vincente quindi è una cosa un po' particolare il giro di ritorno sicuramente troverà di fronte un Prato che vuole tornare alla vittoria a tutti i costi è un Prato che sta crescendo, è un Prato che sta assimilando domenica dopo domenica i creditattici di Mr. Brando, a che punto siamo? ora siamo a un punto diciamo difficile da valutare perché comunque se avessimo continuato con dei risultati positivi avremmo potuto rispondere diciamo diversamente anche a questa domanda è ovvio che i risultati possono far pensare a un passo indietro io personalmente non la vedo assolutamente così ma l'analizzo un po' più dall'alto perché credo che la partita con l'Aglianese sia stata la partita dove effettivamente abbiamo meritato di perdere contro lo Scandicci due episodi ci hanno penalizzato ma mi ricordo una serie di occasioni un rigore sbagliato, un pallo di mobilio tante situazioni per poter riaprire la partita e per fare la partita anche quando eravamo uno in meno quindi ripeto è stata una partita un po' particolare quella con lo Scandicci e credo che in questo momento siamo a un buon livello non siamo una grande squadra ancora come vorremmo essere però abbiamo lavorato tanto e vogliamo subito mettere sul campo tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora e ripartire con una vittoria l'ultimo messaggio del capitano è per la tifoseria per gli ultras del Prato che sicuramente domenica saranno nella curva Matteo 27 ad incitarvi a dare il loro supporto quindi il primo messaggio dell'anno del capitano ai tifosi lanieri qual è? non chiederò loro di sostenerci di più perché credo che abbiano fatto veramente tanto per noi sicuramente voglio dire loro che faremo una guerra su tutti i campi a partire già da domenica perché tutto quello che loro ci hanno dato si meritano di riaverlo indietro sia per loro, per noi, che per la città e per ritornare dove vogliamo tornare e poi all'andata Shannon ha messo punizione tutti lo sappiamo diciamo che niente mai si ripete però ci si lavora sopra e se magari la fortuna mi vuole aiutare io sono sempre qui pronto a cercare di fare del mio meglio per ripetere anche quello che è stata l'andata grazie a tutti